Ringraziamo Riccardo Mandelli per la sua splendida relazione. Adesso dovremmo proiettare un video, un'intervista del professore americano Grover Fur, che è uno studioso dell'Unione Sovietica e soprattutto di Josef Stalin. Il suo studio è stato dedito alla falsificazione dei paradigmi che hanno sempre assediato il cosiddetto impero del male, perché è inevitabile che un impero come quello americano proietti sugli altri quello che effettivamente è il male assoluto oggi come oggi e lo possiamo ben vedere. Uno dei suoi ultimi libri è stato Khrushchev-Mentich, un libro che consiglio di leggere, perché non è un libro che vuole incensare Stalin o vuole edificare la figura di Stalin, vuole solamente demistificarlo da un punto di vista storico. Fondamentalmente noi su Stalin e sulla figura di Stalin sappiamo quello che ci hanno detto al ventesimo congresso del 1956, quando Khrushchev con la sua relazione ci disse che Stalin era una persona terribile, era un demone in terra. Mentre appunto quei punti che sono alla base di quella relazione si sono verificati alla luce degli atti secretati da Putin nei primi anni 2000, un falso storico fondamentalmente. E questo ci aiuta a capire quello che è stato il dopo Stalin nell'Unione Sovietica, perché praticamente coloro che hanno accusato Stalin di essere un personaggio avvezzo ai peggiori crimini, soprattutto al punto della mentalità, fondamentalmente erano loro stessi, Khrushchev in prima, ad avere questo tipo di caratteristica. Quest'anno ricorrono i cento anni dalla rivoluzione d'ottobre. Ci sono iniziative negli Stati Uniti di gruppi politici o movimenti che analizzano l'attualità di questa vicenda storica? Sì, negli Stati Uniti ci sono delle commemorazioni della rivoluzione d'ottobre, ma sono molto più piccole di quelle europee e soprattutto di quelle italiane. Negli USA è molto forte la presenza dei trotskisti rispetto agli altri gruppi comunisti, e dato che vedono la rivoluzione sovietica come una guerra civile, dopo la quale non ci sarebbe stato nient'altro di positivo, ci sono celebrazioni minori rispetto a quelle italiane. Ma soprattutto, per questa loro visione distorta, i trotskisti hanno intenti differenti, focalizzano tutto sugli eventi del 1917 a Pietroburgo. Mentre, secondo i miei studi, è molto più interessante quello che avvenne nel 1917 a Mosca. Gli Enin, Stalin e i trotskisti erano proprio lì. L'attenzione dovrebbe essere posta non solo sul 1917, ma su tutti i traguardi raggiunti complessivamente dall'Unione Sovietica, quindi sugli eventi post-1917. Sa se ci sono città dove si svolgeranno celebrazioni della rivoluzione bolshevica? I comunisti negli Stati Uniti sono sempre stati ostacolati, a differenza di quanto è successo in Italia, dove i comunisti sono stati per anni uno dei maggiori gruppi di opposizione e talvolta anche di governo all'interno delle istituzioni della Repubblica. Negli Stati Uniti sono sempre stati ostacolati e di conseguenza non hanno mai avuto nessun peso politico in nessuno Stato o città, per cui non ci sono celebrazioni pubbliche della rivoluzione. Le città dove la sinistra marxista-leninista è più forte e quindi dove ci saranno celebrazioni sono New York, che ha sempre avuto una sinistra forte, San Francisco o Oakland in California. Non ho saputo di altre celebrazioni in città più piccole. Bisogna anche vedere che attenzione daranno i mass media al centenario della rivoluzione, perché i mass media hanno sempre promosso una visione dei fatti pro-troschi. Sfortunatamente per noi questa è la storia degli USA. Dal punto di vista di storico statunitense, quale pensa sia stata l'influenza della rivoluzione russa sul popolo e sulla politica degli Stati Uniti? Per il mondo e anche per gli Stati Uniti, la rivoluzione russa è stato l'evento più importante del XX secolo. Durante le ultime settimane ho letto due libri di stampo borghese sull'Unione Sovietica, ma entrambi i libri sostengono che la rivoluzione russa è stato l'evento più importante del XX secolo. Uno di questi due libri sostiene addirittura che il XX secolo è iniziato nel 1917 e è determinato nel 1991. Gli storici quindi hanno una visione condivisa che la rivoluzione russa sia stata l'evento centrale del XX secolo. Sicuramente negli Stati Uniti c'è stata una grande influenza del movimento comunista nella letteratura e nella cultura, nell'organizzazione dei sindacati, della classe operaria, soprattutto durante la depressione degli anni 30. Ha influito anche nelle vittorie delle lotte per i diritti sociali negli Stati Uniti. Tutti i benefici sociali di cui godiamo ancora oggi negli Stati Uniti sono stati conquistati negli anni 30 come conseguenza dell'impatto di ciò che è accaduto nell'Unione Sovietica. Tutto questo è associato a ciò che fece Roosevelt, che si occupò del sussidio per i disoccupati, del sistema previdenziale e delle condizioni di lavoro e di molti altri benefici per la classe operaia. Roosevelt concesse questi benefici alla classe operaia per le pressioni della sinistra di quell'epoca. Seguirono l'esempio di quanto conquistati l'Unione Sovietica, che fu ovunque un modello sconvolgente per i capitalisti. Essi potevano rispondere reprimendo o con riforme. Risposero in parte con le riforme, quindi lavori pubblici, riforme sociali, tutte dovute alla rivoluzione russa. Certo, ci furono tante lotte dei comunisti negli USA, ma quelle che sono state vinte e portate avanti trovano la loro origine nella spinta data dalla rivoluzione russa. Quindi ha avuto un grande impatto sulla società, sull'economia, sulla politica e sulla cultura della classe operaia americana. C'è stato un grande dialogo nella società con la rivoluzione russa, questo non è ampiamente riconosciuto perché è stato mitigato dai capitalisti. Infine, volevo sottolineare particolarmente un altro incredibile beneficio che è stato dato dalla rivoluzione russa, specificatamente da Stalin, la lotta al razzismo negli Stati Uniti. Nel 1929 Stalin scrisse alcune lettere ai comunisti statunitensi e ai loro dirigenti sul futuro delle lotte del movimento comunista negli Stati Uniti e disse che la lotta contro il razzismo doveva essere l'obiettivo più importante perché in quel periodo negli Stati Uniti c'era una larghissima accettazione della destinuazione contro la gente di colore. Quindi il movimento comunista negli Stati Uniti, dopo le lettere di Stalin nel 1929, mise tra le sue priorità la lotta al razzismo. I principali leader dei movimenti degli anni 50 e 60, come Martin Luther King e molti altri, sono il prodotto di questa lotta contro il razzismo. Questo è un risultato veramente molto importante del movimento comunista negli Stati Uniti, ma che viene riconosciuto da una piccolissima parte di persone e invece voglio sottolinearlo perché è veramente molto importante. Lei ha dedicato dieci anni di studio ai documenti degli archivi dell'ex Unione Sovietica, che poi ha riportato nei suoi libri. Quali sono state le sorprese più importanti che ha trovato? Posso dire di essere stato molto sorpreso e continuo ad esserlo, perché tutte le accuse di crimini fatte contro Stalin nell'Unione Sovietica si sono rivelate false. Tutte le accuse che ho studiato sono principalmente degli anni 30 e quindi non voglio dire di essere un esperto degli anni successivi, dal 1940 in poi, ma il rapporto segreto di Crusoe, considerato il discorso più importante, il più influente discorso della storia per l'impatto che ebbe su così tanti cambiamenti in tutto il mondo, bisogna premettere che tutto ciò che venne detto, ogni singola frase di quel discorso, era falsa. Ho studiato altri scritti, altre testimonianze su Stalin e ho trovato che erano tutte false, perciò ho deciso, qualche anno fa, di cominciare a studiare Trotsky. Trotsky ha affermato cose molto simili a quelle dette da Crusoe. Crusoe probabilmente ha preso da Trotsky parte di queste accuse contro Stalin. Che Crusoe abbia basato le sue accuse su Stalin attingendo da Trotsky sembra acclarato. Una delle cose più interessanti che ho scoperto su Trotsky è che non ha detto altro che falsità nei suoi scritti specialmente degli anni 30. Ho scritto un libro su Trotsky intitolato Trotsky Amalgams, Trotsky Lai. In questo libro documento una serie di falsificazioni che Trotsky ha prodotto che adesso sono provate grazie agli archivi sovietici e a quelli su Trotsky. Ci sono principalmente due archivi su Trotsky negli Stati Uniti. Uno a Boston, nell'Università di Harvard, e uno in California all'Università di Stanford. Nel libro che ho scritto, documento che Trotsky ha mentito praticamente su tutto. Il mio secondo libro su Trotsky parla della collaborazione di Trotsky con i tedeschi e i giapponesi. Perché ora ci sono prove ben documentate che Trotsky ha collaborato con i nazisti e i militari giapponesi. Trotsky era stato accusato a Mosca dai suoi compagni nella seconda metà degli anni 30. Io non so dire se ho trovato queste cose sorprendenti. Molte cose me le aspettavo già, però tutte le falsificazioni che ho scoperto dovrebbero essere molto sorprendenti per gli altri. Ho già detto qualcosa di Trotsky. Ora lasciami dire qualcosa su Khrushchev. Khrushchev è stato una figura molto negativa ma molto influente. È un personaggio venuto dal basso. Non è stato un anticomunista segreto o un anti-Stalin nella prima parte della sua vita. Era nato in povertà. Khrushchev e chi l'ha sostenuto sono venuti fuori da un processo di distorsione di quanto stava accadendo nell'Unione Sovietica. Questo processo di distruzione deve essersi generato durante il periodo di Stalin, durante gli anni 30 e 40. Anche quando Khrushchev presentò il suo rapporto segreto nel 1956 durante il congresso del Khrushchev, non trovò oppositori, anche se è chiaro che molti dei delegati del ventesimo congresso che sentirono il rapporto segreto dovevano sapere che stava mentendo. Forse non sapevano che erano tutte falsità, ma sicuramente dovevano sapere che almeno una parte erano false, specialmente le affermazioni su Stalin. Malinkov, Molotov e Kaganovich, loro sapevano che Khrushchev mentiva su Stalin, ma nessuno si oppose. A parte Molotov, Malinkov e Kaganovich, che provarono a fermare Khrushchev nel 1957, tutti gli altri accettarono Khrushchev e le accuse che mosse. Semplicemente accettarono che Stalin fosse visto e additato come un criminale. La parte importante del lavoro da fare adesso è capire quali sono state le azioni, qual è stato il processo che ha generato questa situazione di critica verso Stalin e di accettazione delle menzogne mosse da Khrushchev. Credo che la questione prioritaria da capire ora sia questa. Voglio aggiungere che la cosa importante che si sviluppa a partire da Khrushchev e poi con Brezhnev, Cernienko, Andropov e Gorbachev è un cambiamento economico. Da Khrushchev in poi si cominciano ad accettare e inserire molti aspetti di capitalismo nella produzione e nei rapporti sociali. Per esempio, la produzione a fine di profitto, la produzione di merci. Khrushchev in particolare trasformò le fattorie collettive vendendo i loro prodotti come merci. Quindi le fattorie collettive non producevano più per la società ma per il loro profitto. Questo processo fu legittimato e giustificato da economisti famosi come Lieberman e altri negli anni 50, 60 e 70. Secondo loro questa era una cosa che il socialismo doveva fare. Gorbachev accelerò fortemente questo processo che portò direttamente al collasso dell'Unione Sovietica. Quindi il vero punto di caduta nella storia sovietica è la morte di Stalin. Dopo di lui, con Khrushchev e i suoi successori, si innestano una serie di cambiamenti che avvicinano l'Unione Sovietica alle pratiche capitaliste e al capitalismo. Secondo lei, quali sono le cause del declino dell'Unione Sovietica? Sono uno storico, non sono un teorico. Non ho una teoria sui personaggi che portarono al declino dell'Unione Sovietica. Per tanto tempo in tanti mi hanno posto la domanda, cosa ha causato il declino dell'Unione Sovietica? E io ho sempre risposto, sono uno storico e non sono un teorico. Ma adesso voglio provare a rispondere a questa domanda. A questo punto delle mie ricerche, la mia opinione è che i bolshevichi e gli eni derivarono il loro concetto di socialismo dalla seconda internazionale, che era un movimento molto ampio e abbracciava numerosi partiti con posizioni differenti. L'interpretazione dei bolshevichi era quella più a sinistra di tutti i partiti della seconda internazionale ed era principalmente che si dovevano industrializzare i paesi dove il capitalismo non era arrivato a farlo. Inoltre, era necessario collettivizzare i mezzi di produzione e tradurre molti aspetti del capitalismo in socialismo. In effetti, queste cose si possono anche trovare in ciò che Marx scrisse nella critica al programma di Gotha nel 1875. In questo libro Marx differenzia tra comunismo iniziale e comunismo avanzato. Queste teorie di Marx influenzarono e si svilupparono poi con la seconda internazionale. Ma ovunque si cerchino le radici di questo, sfortunatamente, le relazioni di produzione del capitalismo e le disuguaglianze venivano purtroppo mantenute anche nel socialismo, nell'Unione Sovietica degli anni 20, 30 e 40. Vaglia a dire, le differenze di paga tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, differenze tra lavoratori uomini e donne e anche tra i diversi lavoratori, forse proprio per questa necessità nella Costituzione di Stalin del 1936 si prevedeva finalmente una forma di governo rappresentativo che era largamente modellato sulle pratiche dell'Europa dell'Ovest. Perché la gente cercava una rappresentatività in forma assembleare, come i Soviet in opposizione ad altri modi di governo nei vari paesi. Perciò negli anni 40, prima che Stalin morisse, diversi economisti e anche Khrushchev giustificavano l'importazione di diversi aspetti di capitalismo all'interno dell'Unione Sovietica. In riferimento a quel concetto di socialismo, che era un'eredità della seconda internazionale, a me pare che questa sia una nozione molto importante. In ogni caso Stalin in qualche modo cercò di combattere questi cambiamenti capitalistici nei modi di produzione nel suo scritto più importante intitolato Problemi economici del socialismo nell'Ups. Questo lavoro di Stalin fu il documento centrale del congresso del CUS dell'ottobre 1952. Tutto il congresso fu organizzato attorno a questo documento. Tutti gli inviati, tutti i delegati non parlavano di altro perché Stalin sostanzialmente stava teorizzando di muoversi verso una nuova fase del comunismo. Ma alla morte di Stalin questo documento fu completamente dimenticato. Nessuno vi fece mai più riferimento. Il fatto che nessuno ne abbia mai più parlato, nonostante i vari congressi successivi del CUS, non aver dato luogo a questa nuova fase più avanzata del comunismo, è stato un grave errore. Pensa ci sia ancora molto da scoprire in quegli archivi? E sta continuando i suoi studi? Sì e no. Ci sono sempre molte cose da scoprire, ma per esempio non mi aspetto di scoprire nuove prove di crimini. Non mi aspetto di trovare che la collettivizzazione economica fosse sbagliata o che l'industrializzazione fosse un errore. Ho scritto un libro sul massacro di Kati del 1940 e questo libro è molto chiaro nell'affermare che non è responsabilità dei russi. In realtà quel massacro fu un imbroglio, una grossa mistificazione. Fui scioccato in questa ricerca nello scoprire di come fossero misere le prove che gli accusatori dicevano di avere sulla colpevolezza dei russi. Quelle prove volevano solo dare un'immagine bile dell'URSS che era quella accettata dall'opinione pubblica del periodo. Non penso di scoprire altri crimini perché ormai i crimini di guerra credo siano emersi tutti. Attualmente sto investigando sui processi che hanno causato l'apparire del capitalismo all'interno delle pratiche comuniste. Vorrei anche indagare meglio su quanto è successo nel 1932 perché in quell'anno fu abolito il tetto massimo degli stipendi di tutti. Cioè sia che tu fossi un operaio, un soldato, un intellettuale, un ministro, un commissario o che tu fossi Stalin in persona. C'era un tetto massimo oltre il quale non potevi guadagnare e gli eventuali guadagni superiori andavano a partito. Ecco nel 1932 il ministro ha deciso di abolire questo limite e da quel momento tutti i lavori ben retribuiti come ad esempio quello degli artisti, un compositore, uno scrittore, un poeta, in quel periodo guadagnava molto e quindi questi criteri di retribuzione diventarono simili a quelli capitalistici. Anche i politici cominciarono a guadagnare molto. In realtà si dice che Stalin ridesse indietro i soldi. Il problema però non era nei soldi di Stalin ma nel sistema che non era più in linea con il comunismo. Quindi qualcosa è accaduto nel 1932 ma io non riesco ad immaginare cosa. Ma qualunque sia stato il motivo, questo ha finito per avere un effetto corruttivo. Altri ufficiali ma anche certi intellettuali cominciavano a guadagnare grandi cifre. Andando verso gli anni 50 vedi questi cambiamenti nei leader del partito, ad esempio le migliaia di paia di scarpe di Raisa Gorbaciova. In pratica, dagli anni 40 diventare un comunista era un modo per fare una confortevole carriera perché avevi potere e rispetto. Anche il grande maresciallo Zucco, erode all'armata rossa nella seconda guerra mondiale, fu rimosso dal partito nel 1947 e molti storici, come Goffrey e Roberts che studiano Stalin, dicono che lo ha espulso dal partito perché era geloso del suo potere e dei suoi soldi. No, la questione è diversa. Nel 1993 è stato scoperto un documento che racconta come Zucco e altri militari avessero rubato argenterie, candelabri e altro da castelli e case tedesche per tenervi per loro, perché volevano essere circondati dal lusso. Ci fu un'inchiesta e Stalin e gli altri li mandarono in prigione. Anche altri ufficiali più giovani fecero queste cose, però io ho portato questo esempio perché lui è un eroe della seconda guerra mondiale. Zucco odiava Stalin nel 1957 quando Khrushchev si confermò al vertice del partito anche con l'opposizione di Malenkov, Molotov e Gaganovic. Khrushchev chiamò Zucco e gli chiese di entrare subito nel comitato centrale per appoggiarlo. Perciò è importante capire che Stalin ha punito Zucco come gli altri, mettendoli in prigione e mettendoli fuori dal partito, in quanto nemici del paese uscivano dalla seconda guerra mondiale completamente distrutti. Il paese aveva bisogno di essere ricostruito e aveva bisogno dei soldi che arrivavano dagli aiuti esteri. Tutti i soldi che venivano raccolti dovevano essere dedicati alla ripostruzione del paese e pertanto che la gente se ne appropriasse per motivi personali era contrario al paese stesso. Era visto come un crimine contro la società. Il comportamento di Zucco comunque è il risultato di questo carrierismo innescato nel 1932. Per questo dico che bisogna saperne di più su questo cambiamento, perché c'è una tendenza al di sopra di noi, di medite, che è quella di dire che tutto ebbe fine con Stalin. No, Stalin è il risultato di un processo e quindi dobbiamo andare a vedere come esso si evolve e perché Stalin non potrebbe fermare questa tendenza all'introduzione del capitalismo nell'Ursa. Diciamo che quando Stalin è morto la sinistra dell'Unione Sovietica è morta. Stalin fu un grande, ma questi fatti sono tragicamente avvenuti e per questo dobbiamo continuare a studiare ciò che è accaduto. Spero che ci sarà una prossima volta. Io continuo a studiare quali sono state le cause che hanno portato al declino di questo meraviglioso movimento comunista del X secolo. Ci sarà una prossima volta in cui dovremo fare meglio. Quindi non chiedermi se ci sarà una prossima volta, ma quando ci sarà. Grazie. Grazie. Grazie.